Il Comune di Napoli si prepara a lasciare Equitalia e annuncia la nascita di un nuovo soggetto pubblico che gestirà in modo innovativo il rapporto con i contribuenti. Dal prossimo mese di maggio sarà attiva Napoli Riscossione, che partirà occupandosi di una parte delle entrate comunali per poi rimpiazzare progressivamente Equitalia nelle riscossioni di pertinenza comunale dalla tassa dei rifiuti alle multe. La filosofia di gestione di Napoli Riscossione si baserà su un rapporto di maggiore collaborazione col cittadino, migliorando l'informazione, distinguendo nelle proprie azioni fra evasori abituali e cittadini normalmente in regola e riducendo i costi di gestione. Partire oggi significa completare ovviamente il ciclo dei servizi di Napoli Riscossione entro l'anno 2017, però già nel 2016 saremo in grado di poter erogare servizi alla cittadinanza e servizi ovviamente all'amministrazione comunale attraverso questo nuovo organismo. Una diativa in questo momento in atto sulla costituzionalità o meno dell'agio che Equitalia prende dai contribuenti. Noi riteniamo, così come anche poi l'orientamento della giurisprudenza, di poter recuperare l'agio in capo ai cittadini solo quando è coattivo, cioè dopo i 60 giorni di scadenza del termine. In quel caso là l'azione di riscossione e gli oneri che questa genera possono essere ribaltati al cittadino, ma fino allora se il cittadino paga correttamente non avrà ulteriori costi. La Napoli Riscossione deve essere un'organizzazione in pareggio, non deve lucrare ma ovviamente non deve nemmeno generare perdite. L'obiettivo di una riscossione efficiente punterà anche ad aumentare la platea contributiva e ad abbassare perciò i tributi locali. Le azioni finora intraprese dal Comune avranno effetti già sull'Atari del 2016 che sarà mediamente più bassa rispetto al 2015. Fra le novità previste l'apertura di sportelli operativi in tutte le municipalità e la possibilità di richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata su cui Napoli Riscossione invierà ai contribuenti le informazioni e gli avvisi per rispettare le scadenze. Prima città in Italia, addio ad Equitalia sia a Napoli Riscossione. Questo più semplificazione, semplificazione, più trasparenza, più chiarezza, un rapporto diretto tra Comune di Napoli e contribuenti, meno evasione meno tasse, del resto questo è già un risultato che abbiamo perseguito in questi anni. Noi sindaci siamo stati i firmatari delle cartelle sattoriali di tasse che decidono Governo e Parlamento, noi mandiamo solamente la cartellina e una parte delle tasse se le piglia il Governo centrale. Noi vogliamo essere autonomi, ci vogliamo creare la nostra finanza pubblica, vogliamo applicare la Costituzione e chiediamo che il Governo faccia la sua parte, garantisca i servizi previsti dalla Costituzione e che ci siano più fondi europei alle aree urbane. Per il resto siamo in grado di farcela noi. Poi se guardiamo e abbiamo elencato i dati, quali sono stati i tagli in questi 4 anni, ci rendiamo conto che questo è un risultato incredibile, questo che stiamo raggiungendo per una città che è nel piano di riequilibrio e che si trovava in una morsa di finanza pubblica che la stava soffocando per sempre. Quindi con questo ulteriore passo noi facciamo un balzo in avanti anche nell'affermazione concreta del principio di legalità.